bimbi in bici in via palermo a mussomeli nella serata del 18 luglio 2017 un evento organizzato dalla pro loco junior quindi mussomeli nel contesto dell'estate mussomelese mussomeli in vesta dunque con stasera i bimbi in bici via palermo dunque trasformata in una pista per i ciclisti allora pro loco junior davanti al ristorante divinity dai e adesso balliamo un po dai balliamo un po ragazzi e adesso dobbiamo fare anche una bella foto di gruppo ringraziamo sempre il fatto nisseno il fatto del ballone nella persona dello zio carmelo un saluto a tutti il 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 Oh, 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 oh. Zina, ti parli di gruppo? Zina, ti parli di gruppo? Zina, ti parli di gruppo? Di che cosa si tratta? È un'iniziativa a cura della Prologo Junior, è giusto che Lucrezia che è presente della Prologo Junior dica un po' come sarà organizzata questa sera, che è magnifica. Non mi aspettavo tutti questi bambini, questa confusione, questa piacevole confusione. Lucrezia, come organizzate? Questa serata è organizzata in diverse sessioni, ogni postazione ha un obiettivo, cioè la postazione dove viene venduto lo zucchero filato, dove vengono truccati i bambini, c'è anche un confiabile nei quali i bambini possono giocare, e le notte se può vedere la strada divisa in persone per fare e giocare meglio i bambini con le proprie biciclette. Una serata dunque tutta per i bambini in bici, via Palermo, tutta l'oro, stasera, in questa giornata del 18 luglio 2017. Bimbi in bici. Una piacevole confusione, ha detto il presidente della Prologo Salvatore Piazza, una piacevole confusione con i bimbi in bici. Via Palermo, ma più che confusione, è festa, festa dei bambini. Ed evidentemente non manca la collaborazione dei genitori che si sono portati in questa serata di luglio nella Via Palermo, con i bimbi e le loro bici. E siamo all'inizio dell'estate mussomelese e si respira aria di festa, mentre lentamente scorre il carnet degli appuntamenti estivi mussomelesi. Imposini e le loro bambini in bici. Musica Ed anche la musica accompagna questa serata di luglio, una serata estiva. Un movimento sexy, un movimento sexy, una mano alla cintura, una mano alla cintura. Un movimento sexy, un movimento sexy, la impresa mediale. Suovecito para abajo, para abajo, para abajo. E mentre i bambini sono alle prezze con le loro bici, anche i ragazzi della Proloco Junior aiutano con la musica, con il ballo, aiutano a creare quell'atmosfera di festa proprio nella Via Palermo. Tutti insieme dai bimbi! Mettetemi un po' più indietro ragazze, un po' più indietro, così facciamo passare le bici. Su le mani bimbi, muoviamo le mani come fanno loro, così, 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 così. Movimento! Musso Meli, 18 luglio 2017. Musica, musica per tutti. Musso Meli in festa 2017. E ci pensano i ragazzi, i ragazzi della Proloco di Musso Meli. Bim Bim Bici, in questo 18 luglio 2017. Musica, musica per tutti. E non mancano le raccomandazioni dell'assessore Sebillo Conte, la raccomandazione ai bimbi di non correre, sono nella pista di via Paletta. Bravissime queste bimbi, bravissime! Siete più bravi delle ragazze voi, bravi! Grazie per la visione!